Annuncio importante, ecco perché è importante accendere la campanella perché così riceverete queste notifiche. Con questa cosa sembro Hitler. Le notifiche sono importanti quindi vi voglio segnalare adesso un'applicazione dove si può acquistare online. Sono sempre tentato di stare qua. Si chiama Temu. Temu è un'applicazione che somiglia a Aliexpress, Banggood, dove compri dalla Cina. Ma dobbiamo scoprire le differenze perché io ho fatto già degli acquisti, si paga con Paypal, quindi siamo tranquilli per qualsiasi cosa. Veniamo rimborsati. Ci sono tantissime cose perché adesso stanno inaugurando l'applicazione e quindi fanno molte offerte. Infatti ci sono tantissime cose di cui oggetti per la vostra auto, abbigliamento per la donna, abbigliamento per i bambini, per l'uomo, tantissime cose. Quindi andate a vedere, non vi lascio nessun link perché non c'è nessun tipo di partnership che ho stipulato con loro. Quindi ve lo faccio gratis. Però voi, mi raccomando, seguitemi perché le notifiche servono appunto a segnalare queste cose immediate. Perché le offerte scadono e potete rimanere indietro, magari pagare un oggetto molto di più. Ci sono anche auricolari per i vostri smartphone, tantissime altre cose. Quindi mi raccomando, accendete la campanella qua dove c'è iscritti. Se sei già iscritto, accendi anche la campanella e clicca tutte le notifiche. Che poi non riceverete solo una piccola notifica sopra il vostro schermo. E' uscito un mio video. Ciao. Quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando. Ciao. Ciao.